Otto Damm nasce dall'esigenza di creare qualcosa che durasse nel tempo. L'otto è il simbolo dell'infinito che nel suo movimento si intreccia senza mai interrompersi. È per quello che è il nostro numero fortunato e parte del nome del brand. La prima parola che mi viene in mente pensando a Otto Damm è valore, valore che c'è dietro ad ogni collezione, al lavoro delle persone. Otto Damm è anche audacia perché bisogna avere il coraggio di osare e oltrepassare i propri limiti. Vorrei che la donna Otto Damm attraverso i nostri capi si sentisse libera di esprimere la propria personalità. Mi sono sempre rivolta a una donna che cerca l'originalità, che non segue le tendenze del momento ma cerca nei capi qualcosa di speciale perché i capi speciali non dormono mai. Il nostro mondo è fatto di ricerca e attenzione ai dettagli. Nasce da uno studio minuzioso che rende i nostri capi speciali.